In una mano la ramazza e nell'altra i gioielli. Ammonterebbe a 5.000 euro il valore dell'oro recuperato dai carabinieri della stazione di Pezze di Greco e già riconsegnato alla legittima proprietaria, una donna di Pezze di Greco, che aveva denunciato il furto nella sua abitazione il 2 marzo scorso e in seguito alla quale i carabinieri avevano avviato le indagini. A finire in manette, la donna delle pulizie, la 41enne di Montalbano Isabella La Neve ed il convivente Massimiliano Medico, 42enne Brindisino, ma domiciliato a Montalbano, entrambi già noti alle forze dell'ordine. In seguito alla denuncia, i militari durante il sopraluogo nell'appartamento avevano notato che l'abitazione non mostrava segni di effrazione e i mobili erano esattamente al loro posto. Da qui il sospetto sulla donna delle pulizie, che il giorno dopo la denuncia, durante una perquisizione personale, era stata trovata in possesso di oggetti del valore di alcune centinaia di euro, che la proprietaria aveva subito riconosciuto come alcuni di quelli trafugati dall'appartamento. La 41enne era stata quindi denunciata come unica responsabile dei furti e deferita in stato di libertà. Le indagini dei carabinieri non si sono però fermate e da una serie di accertamenti e ricognizioni finalizzate al ritrovamento del resto della refurtiva effettuate all'interno di gioiellerie e oreficerie indirizzate all'acquisto di oro, i militari sono riusciti, oltre che a recuperare i gioielli, a risalire al convivente della donna, che si preoccupava di ricettare personalmente il mal tolto. Ad indagini concluse, gli indagati sono stati segnalati all'autorità giudiziaria che per ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, Tea Verderosa, e su richiesta del Pubblico Ministero Giuseppe De Nozza, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.